Salve a tutti, ragazzi e benvenuti ad un nuovo episodio dei classici Super Nintendo Oggi iniziamo Jurassic Park 2 The Chaos Continuous si chiama Comunque non è Jurassic Park 2, Jurassic Park Part 2 Part 2 Comunque caro PS2 Caro PS2 Ragazzi se hai detto un motore ogni tanto camminare è normale È normale, ci scusiamo ma sono le macchine Perdonateci Ma perché è scritto la banda? Non lo so Comunque spiega, questo gioco è uno dei più semplici? Google Vai le tue prime informazioni No è difficile come gioco, vabbè vedete, lo vedremo Come lo vedremo? Lo vedranno E poi E' difficile No aspetta, è davvero difficile Verissimo E infatti questo gioco è basato però Non siamo mai riusciti a superare questo livello Infatti, infatti Siamo arrivati solamente alla base Basta Non siamo arrivati alla 83 83esimo minuto, lo so che quant'era Però vi dico che davvero questo gioco è impossibile È basato Comunque, iniziamo Facciamo un'altra cosa? Cosa? Un'altra mappa Quale altra mappa? Sì, 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 faremo un'altra mappa Va bene Senza indugi Iniziamo Ricordo che possiamo cambiare Eh, è Nerone Lui è Nerone Mentre lì sono il Biancone Biancone e Nerone I fratelli Biancone e Nerone Ricordo che possiamo cambiare le armi L'unico problema è che non gli fanno un cazzo Cioè, se gli fanno il soletico è già assai Ma vabbè, c'è il vitro che è il potente Sì, assolutamente Ragazzi, se noterete che Cioè, io sto sparando a vedere il nuovo Se noterete che il gioco non riesce a salire le scale è normale Sì, perché è difficile Vi dico, è più difficile salire le scale che uccidere dinosauri Comunque, secondo me Attenzione Cioè, io sto premendo tutto Sto rompendo il joypad, ragazzi Cioè, sto distruggendo tutto Cioè, compaiono ogni angolo Diggielo più sui due Eccolo, avete visto? Non puoi avere un minuto di pace Mangato, mancato Gioco degli infarti 2.0 Io ci metto il mitra proprio Cioè, glielo devo Muore Non fatevi prendere le apparenze Carissimi, ma è davvero E dico davvero difficile Questo gioco Poi ci sono questi piccolini che vengono E non neanche si notano Cioè, Alonzo in confronto Alonzo in confronto Non è niente Di velocità Eh, l'ho preso senza Prendilo tu Possiamo anche Spartirci l'energia Come ho fatto io Ecco, premendo il tasto select Ricordo che stiamo giocando Se l'abbiamo detto Attraverso l'emulatore Per PlayStation 2 Cioè Il punto principale Il punto principale Non si fa niente Quelli grigi Sono i più forti Il punto principale È sparare sempre Io sto prendendo Ogni tipo di arma Perché non so Come cavolo fare Cioè Ho scritto un intero caricatore Cioè Dovunque va Andate carissimi Vi sparano sempre Ecco Ecco la difficoltà Questa è la difficoltà del gioco Salire una scala Ecco Il punto principale Sai qual è Pc2 Saltare indietro E subito avanti Cioè Devi saltare così Ma prendilo tu Poi I medikit Sono proprio Introvabili Introvabile Verso l'alto Quando stai cadendo Verso l'alto A punto Vai di là Ecco Verso sinistra E poi destra Allora io faccio La che c'è Il tubo E' Mi ero qua Quanto ragazzo Attenzione C'è Belen Rodriguez Belen Rodriguez Aspetta Olè C'è più difficile Proprio Salire le scale Che uccidere i dinosauri Pc2 Proprio Ah Capito Cos'è quel numero Pc2 Sono i numeri Di dinosauri 84 Non le dobbiamo uccidere Ancora Ancora Perché il punto principale del gioco Mi sembra che uccidere i dinosauri Ecco Vedi 83 Sì sì Sono i dinosauri Possiamo cambiare Le armi Ricordo C'è metto proprio il bazooka Io Non me ne frega niente Questo è bello Vabbè Non dovrebbe comparire nessuno Quindi andiamo Ecco Adesso compare un gigantosauro Assettato di sangue A proposito Se ci riusciremo Dobbiamo Un minuto Pc2 Ecco Ma quel coglione Ma perché ti uccidi Come un idiota Un po' di vita Aspetta Fai prima me Allontanati Via Devi stare Un metro lontano Quando stai cadendo Premi in alto Capito Cioè ma come cazzo Le hanno fatto le scale qui Cioè devi essere Ecco Non so come ho fatto No Non posso più darti energia Vabbè trovalo tu Mi sembra che di qua c'era Attenzione Vai col metro Proprio a fare male Vai Dannazione Che figura di merda Dai dai Rilasciamolo Cioè È impossibile Questo gioco Io non lo so Non chiedete di portar Ecco Già muore il pirla All'inizio del gioco Non chiedete di portarci Perché proprio Io Cioè ma come cavolo L'hanno fatto Il gioco Con i piedi Non so quante volte Abbiamo fatto questa Questa parte Cioè mi ricordo Tutti i dinosauri Che compaiono Cioè Immaginatevi Il livello più facile Scusa Il livello più facile È quello dove c'è Il gigantosauro Quello più facile Quello più difficile Dove c'è L'indominus rex Sentiranno solo Che vi aspettano Con la bavetta Che vi dicono Dobbiamo fare un po' Di colazione Vieni Poi ci sono dei caspiti Di cavi E questi insetti Che non servono un caspito Che purosomente Consumere Diciamo che noi Andiamo a spuola A fugire Con Proviacce Invenite Sì Non l'abbiamo Ma quanto sono Prendi la tua energia E non ti suicidare Mi raccomando Ecco Adesso farò un suicidio Proprio epico Cioè Nella storia Dei video youtuber Ci sarà Un'uccisione epica Il problema Non so Il problema È questo cazzo Di veloci rapido Ma soprattutto Quelli piccoli Quello sono il problema Se non ci fossero Questo Abbiamo finito il gioco Cioè Il creatore del gioco Veniva e ti dava L'assetta di madre Cioè Invece Ci sono questi qua Perché dicono Aspetta Dobbiamo renderti la vita Per un inferno Quindi te li mettiamo apposta Vedete Vedete Cioè Non so come altri youtuber Sono usciti a farlo Io proprio non ci riesco Vai Vedela tu sotto Ecco qua Non ti uccidere Ecco Adesso farò un suicidio Abbassati Non ti avvicino Che questi qua Sputano Sono i dilophosauri Un minuto C'è la scala maledetta Ecco qua A posto C'è l'odio Un cinza Trovo Cazzo Attenzione Che compagnerà un altro Pure qua Tra poco Attenzione C'è Pse2 Giocare a questo gioco È come impararti una poesia Cioè Devi ricordarti tutto A memoria Attenzione Che qua ne compara un altro Attenzione a quelli piccoli Attenzione a quegli sgorbi Cioè il punto sarebbe saltare sempre Però comprano proprio nel momento in cui atterri Quando sei vicino prova a saltare Però non stare troppo vicino Cioè incollati allora e poi prima Un po' di vita Un po' di vita Emo proprio Vieni qua Prendo io Dammi un po' Dammi un po' di vita Non dovrebbe compaire nessuno Dai un po' di vita Te l'ho data Te l'ho data un po' Siamo così pari Dai conserviamoci l'energia Oh un life ragazzi C'è già un life che portiamo a questo gioco Ah Ah perdi energia se cadi Sì perdi energia Eh tu sei morto È per questo motivo quindi sono morto Aspetta Quanto ve così vai Indietro e poi salti Salti indietro e poi Davanti Sì e ti abbiamo sentito amico Arrivederci e grazie Cioè col mitra ci stiamo andando Cioè Cosa dobbiamo fare? Lo prendo io così caso mai Servisse a qualcosa C'è quel fetende che ci aspetta Vieni qua che ti faccio assaggiare un po' di piombo Adesso le compriero 50 Adesso compare il cugino Lo zio Il nonno Tutto Chi più ne ha Ma perché ti butti prima Ma lo fai apposta Devi salire in alto E poi ti butti Aspetta c'è la scala Che morbido Cioè io penso Io la scala devo saltare Vieni che ti facciamo un colabrodo Eh adesso Dai Due riscio Ecco Vai Basta Una volta sola Eh aspetta Vado prima io Così se almeno mi suicido Vai Ma buttati verso di qua Non ti preoccupi Vai Hai detto Ha detto buttati No Basta Energy non te ne do più Se muore ti freghi 2000 years later Dai a me per cortesia Guarda Ci vuole tanto Aspetta a me ora Ci vuole tanto In cui ti lo so Sono diventati fossili Per aspettarci È un po' di vita Sta per morire Ok Tu tu muori come un coglione Però sotto ci può essere vita Cioè non si immagina cosa ci sia Aspetta Ci può essere vita Ma non si immagina cosa ci sia Sentendo i rumori C'è essere Ecco Eh se cacchio Ci può essere vita Vedi No Tutto questo per delle cavolo di munizioni Ti prendo io Sì Vi abbiamo sentito Veniamo subito a morire Tranquilli Cioè la sfida più ardua È questa Però fino a questo punto Non ci eravamo arrivati Che cazzo fai Che cazzo No 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 è stato questo qua Che ti spara È stato questo che ti spara Ecco qua Contento Non ti ucci Dai 67 Ma come 67 Non 66 Che munizioni sono queste Non le ho mai viste Ah sì Sono queste Vabbè ci metto Il mio fidato Sto cazzo Dai Cioè io non so più come comportarmi Cioè stiamo più saltando Che sparando Un copse Un copse Questo ho capito Un copse Sì 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 Nei commenti diranno portatelo Io vi giuro Vi massacrerò Vai avanti Senza di me Salta e sparagli no Ti prende È più seduto Se vuoi stare così Ora cambiamo mappa Decisamente Quindi adesso avete l'idea Adesso avete l'idea No assolutamente no Non vorrei bruciare il gioco Vediamo dobbiamo mettere uno in italiano No a posto Ah a proposito Difficoltà facile Difficoltà facile Qui siamo in una radura ragazzi Dove ci sono? Gallimimus Eppure Rombicoglionus Ecco li vedete che sono morti Non dobbiamo uccidere da quando sono i Gallimimus Cuore Vabbè non me ne frega Le uccide lo stesso Allora tu vai avanti Che io sparo dietro Tu vai avanti Che io sparo dietro Vabbè tu spari dietro Che vado avanti C'è un dinamitardo Questi due Sai una cosa? L'impiego di dinosauri di prima Quando lancio questo qua La bomba Dobbiamo allontanarci Eh ma È fatto L'uomo d'acciaio Eh che cavolo Tutto resisteva Ma che Ma È fortissimo Eh sì È La letta brigata Muori Basta Cioè è impossibile Attenzione Sono le mine Queste Mi ricorda molto Meta slug In questa parte Attenzione alle mine Guarda sempre pure a terra Ne raccomando No No perché Non ci piace Le ammazzo lo stesso Non me ne frega niente Ehi Medikit Attenzione alla montagnetta Cioè Saltare Il bello che mi è preso pure a me Attenzione alla montagnetta Sì però Questi dinamità Cioè Gli tira una bomba atomica E neanche muoiono Anzi Dicono Besso l'etico Grazie Attenzione che qua La vedo brutta La vedo molto brutta E io ci metto I proiettili Ma avete capito come Cioè quelli più forti Che c'ho Sì Possiamo andare avanti Credo Un minuto che cambio arma Ci metto il mitraglione Venite Adesso che ho il mitra Venite Anche se dopo eh ti ho dato l'energia per aiutarti no è impossibile proviamoci no è proprio impossibile ce la dobbiamo fare non lo so devi avere una cavolo di fortuna vabbè questo gioco non c'è fortuna facciamo così schifo che anche i medici sono armati non chiedete di cosa dobbiamo fare perché non lo so e non ho voglia di spiegarvelo no ci colpistono lo stesso sono come i cobsognatos da quanto ne so eh ma non si fanno niente perdiamo troppa energia all'inizio se mi fanno cambiare armi mi fanno un favore a me ti è rotto le viglia non dobbiamo stare fermi dobbiamo camminare aspetta metto il mitra non andarci contro perché se no ti uccidono cerchi di stare un po' lontano aspetta io mi sembrava ma no lascia stare questo salta direttamente di qua cioè è impossibile attenzione è qua il dinamitardo appunto non ho più vita no scopito è arrivato solamente che un po' un po' mi è fatto qualcosa ecco abbiamo preso non uno tre ne abbiamo presi eravamo in due mi diceva una forza la vaga proviamo un altro livello cioè sto perdendo vent'anni della mia vita li sto perdendo facciamo blocco il blocco ce l'ho io il blocco mentale e se no poi ci sono no quando ci sono questi inter mi ha fatto il fuoco ora ci manca solo uno che ti dice distruggi un tipo con la bomba atomica e come la distruggo sono fatti i tuoi sarebbe proprio il colmo attenzione a quell'angiafiamme cioè è bello che devi pure mirare bene diciamo che la recensione del gioco fa proprio pietà di qua c'è la vita la vita mia c'è e andiamo no vabbè prima di vedere ci va in cura dove la vita è sopra fa meglio che non ci andiamo siamo rinchiati e dobbiamo del forzo di là e che l'ho sparato muori muori no vabbè questa qua non la sto bevando dai basta teniamo qua dai l'ultimo no basta proprio mi sento male mi sento male dai dai no questa no dai facciamone un'altra eh dobbiamo morire schifiamole proprio me ne frega niente beh pensiamo all'auto positivo almeno non ci sono quelli piccoli ah pensiamo positivo però c'è se qua così non mi verai schifiamole non me ne frega niente vabbè attenzione qua ma questo qua è mortale vabbè tutto questo solo per uccidere un cretino dobbiamo andare alla scala di qua dobbiamo andare sopra di qua spariamo da lontano e tu con un fesso che ci vai avanti è morto non so come un minuto che devo mirare bene bisogna avere pure la mira a scalare no non è affatto il cu io non ho parole attenzione eh la doppietta non va lì salto aspetta spero dall'alto io sembra che abbiamo stato l'Empire State Building alla King Kong basta facciamo un ultimo livello ma non questo ma basta sì perché mi sento male mi sta avendo un esaurimento nervoso continuo assolutamente no ci vedete su tre missioni neanche una ne abbiamo completata ce la faremo a fare e se mi chiedono PS2 ti piace questo gioco è come se mi chiedono al tipolo della chiave questi rallentamenti sono dovuti dall'emulatore no ma è meglio attenzione ecco vabbè si è suicidato lascia stare che si è suicidato che si è suicidato mi è morto mi ha morto vieni qua il frame rate quando vedo quando vuoi vieni qua vai a rubare qua metti l'arma potente lascia stare dopo arrivano centinaia ecco cosa si avvicina salta vedi quando è proprio vicinissimo a te attenzione io sparo lo stesso ecco sparo una volta siamo su un diluppo e ci cadono pure le rocce ma si dai la via di dante non è dalla nostra parcia no ma anche nelle montagne il video lo chiamerò stupidi compi no ps2 stupidi compiti stupidi compiti no no non mi sono fatto niente incredibile ecco adesso non mi fa salire un minuto si ora non fa salire a questo nido non mi dice niente di buono aspetta a maria salva no no non ho fatto niente però non ci vedo un cazzo e ora e muoio pure io no non muoio bene sono vivo io vedi che mi sono fatto male vabbè ti è spezzato la gamba ma è una caviglia più o una meno per meno 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 di meno cioè vi fate male ovunque se toccate una parete è morto non c'è la prima volta che vedo un pteranodonte in questo gioco c'è dai non ti preoccupare questi due ne mancano solo 92 dai sono pochi aspetta e ora e ora sono cavole prima andare da questa parte ma chi lo sa oddio sposta corri ma questi qua grigi questi questi gruppi grigi si rompa ma quelli grigi scuri ma perché devi fare l'idiota c'è spiegamelo il tuo lavoro vedi questo questo di lupo che mi posso avvicinare non posso darti nel gioco se no vedi questi qua sono di lupo vedi vieni qua a posto di stare qua fino a mezzanotte quando trovo l'energia vabbè facciamo l'ultima mappa quello che non abbiamo fatto proprio basta basta l'ultima mappa che non abbiamo fatto allora questo credo che non abbiamo fatto è questo ragazzi vi giuro è difficile sembra una cacata voi direte ma dai che io gli occhi chiusi te lo abbasso ma abbiamo fatto proprio il joypad per farlo ma vi dico che è impossibile e vabbè ormai ci siamo siamo in ballo e balliamo vedi sei tu che perdi energia devi fare attenzione quando vengono quelle devi saltare ma poi comunque una domanda è una domanda perché sono 100 dinosauri ora non andrò crepa schifoso devi fare una morte atroce dai ne mancano pochi aspetta sono spaventato ho scelto un minuto il joypad è all'ip una pietra interessante cioè è più facile trovare 1500 euro a terra che la medicina no direi di quali no ma nei 94 ce la possiamo fare momento di sarcasmo e se non l'hai capito te lo spara ancora sono morto e ho messo il bazooka stavolta non mi battono neanche con 150 mila euro adesso viene un gigantosauro dipolo nella faccia ecco ho finito pure le munizioni aspetta le sto cambiando il massimo questo aspetta che salto aspetta dopo di me prova a vedere se trovo energia vai mi stai immobili e il gioco c'è dai forse ce la posso fare spero di trovare energia la situazione è saltare prima lo vedi cosa colpo no ho detto il punto si vabbè però guarda qua se vedete sono tutto sudato vaffanculo vaffan park vaffan park troppo grande da basta basta mi sento male guarda ragazzi guardate prendiamo il joystick sono tutti sudati frateci proprio per la fatica salutiamo PS2 c'è scritto arreghi troppi danni no basta basta PS2 ma è però sotto questa è la prima parte anzi il primo episodio dell'ultimo episodio questo non lo portiamo neanche ma neanche se mi date una residenza a Disney dove voi io a questo non ci gioco se ci pagate si no ma neanche se ma neanche se sono 150 miliardi di euro io non ci gioco ma neanche morto PS2 salutiamo anche da tutti proprio ci siamo divertiti diciamo salutiamo Daniel Valcenzi Zio Naikar Zio Rab Saluto l'iscritta Saluto l'iscritta Saki Croft vi invito a passare al suo canale per cortesia non chiedeteci di portare questo tu lo vuoi portare queste due sì davvero ok io già ci sono e mi basta e avanza da Nerone eh Biancone Joker Pro Gamer Joker Pro Gamer proprio mi vado a fare mi vado a bere 150 camomille perché la testa mi scoppia è la verità questo gioco come l'hanno io mi chiedo come lo hanno realizzato sì toco e toco però però a parte ma come l'hanno fatto con i piedi no hanno chiamato quello della chiave per farlo dal vostro amatissimo è da PS2 Forever che sono io e io vi aspettiamo un prossimo episodio dei classici di Super Nintendo ma non questo non questo scrivete l'hashtag bruciatelo hashtag bruciatelo diciamo quale la chiave sì comunque questo qua è di gran lunga peggiore di quello della chiave perché questo qua è un gameplay davvero realizzato con i piedi ce l'hanno hanno chiamato le scimmie degli zonno e tu potete fare un gioco eccovi il prodotto beh ragazzi per oggi è tutto per oggi è tutto arrivederci grazie 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 grazie